e poi da lì sono ritornato al terzo reparto sono diventato capo del terzo reparto l'aeronautica piani operazioni addestramento sicurezza del volo poi sono dall'accademia aeronautica generale divisione ho fatto il comandante l'accademia aeronautica poi sono tornato la sono riuscito all'accademia sono riuscito a litigare col procuratore di santa maria capovetere vabbè tutte tutte avventure particolari insomma ho trovato un'atmosfera molto particolare per cui ho dovuto prendere i provvedimenti anche la alla fine me ne sono tornato via sono andato alla seconda region aerea ho fatto il vice guanante la seconda region aerea e tutta tutta logistica quindi ero scocciatissimo non mandava non mi piaceva non mi divertivo c'era la gente dei villaggi azzurri che mi chiamava per aggiustare i rubinetti che si rompevano nelle case degli ufficiali dei storici salini ma di che ma voi chiamate il vice comandante e siamo abituati così vabbè alla fine alla fine c'è stata l'occasione l'aeronautica ha deciso di mandare qualcuno nel golfo volontario subito sono andato io nel golfo e quella è stata un'altra avventura importante con tanti tanti risvolti anche quello perché è stata la prima volta praticamente che l'aeronautica ha sparato insomma dopo il 1945 quella non era una missione di pazze anche se non l'ha mai voluta l'hanno chiamata l'hanno chiamata missione di polizia internazionale quella era guerra quella guerra nessuno voleva crederci però perché anche noi eravamo stati mandati da un po la leggera non dice la massima tanto poi finisce eccetera tanto saddam se ne va si ritira niente quello non si è ritirato è uscita la risoluzione dell'onu mi pare la 687 o 685 che faceva un ultimatum a saddam per cui doveva andarsene entro il 15 gennaio altrimenti incominciavano le danze e io continuo a dire guardate io stavo nel comando stavo assieme a schwarzov ero in gela in divisione quindi avevo già un assieme a orner che era il comandante della dell'aviazione e dico guardate e qui si spara tra un po e i nostri non avevano la qualifica al rifornimento in volo come con i rifornitori americani non avevano l'addestramento a volare in package con gli americani io sollecitavo tutte queste cose no qua non si può no tanto la guerra non c'è eccetera estate lì tra un po tornate abbiamo fatto la nostra bella figura questa è la politica italiana la pace tutte le cose tutte cose bellissime nelle euro e parlamentari ma quando c'è un tizio fuori che deve far fronte a quelli che invece si stanno preparando a sparare e ti dice voi che fate è una situazione veramente brutta alla fine si sono convinti che avremmo sparato ho fatto una convenzione con lo stratello col sacche per usare anche noi tanker abbiamo fatto l'addestramento sul loro tanker che è diverso noi non li avevamo ancora i tanker noi avevamo fatto un po di addestramento con i valiant inglesi che avevano il cavo diciamo il cavo di gomma e il cestello per fare il fornimento gli americani invece avevano un boom un'asta che veniva manovrata da bordo della cisterna veniva infilata nel nel f16 per noi ci hanno messo il cestello invece in cima al boom che quindi roteava vorticosamente ed era difficilissimo da da centrare quindi comunque abbiamo fatto l'addestramento tutto bene però non ne voleva sapere non non ne voleva sapere di dire di cosa avremmo fatto insomma il parlamento era una situazione precaria come adesso per cadere eccetera poi poi abbiamo iniziato sta guerra e abbiamo fatto il nostro lavoro anche noi abbiamo perso il primo aeroplano poi ho deciso perché noi avevamo ancora le tattiche a bassa quota che non non si potevano fare perché avevano una contraria un artiglieria un sistema missilistico eccezionale gli iracchini allora si poteva volare solo nei grossi package americani quindi riprendi l'addestramento fai il volo nei grossi packages e non è più successo niente abbiamo fatto il nostro lavoro il nostro lavoro fino in fondo io andavo a volare il venerdì andavo via col g202 da riad andavo nella base degli emirati dovevamo gli aeroplani noi e volavo anch'io fatto dei voli di rifornimento io facevo da tanker perché non ero combattere di sulle fece sul tornado quindi facevo il tanker fino sul confine travasa vol poi io tornavo indietro e loro andavano ad attaccare gli obiettivi sono fatto anche quello è comunque è stato un periodo se l'italia ecco dell'italia mi hanno fatto fare bella figura l'aeronautica i piloti e gli specialisti l'aeronautica non il nostro governo ho dovuto sostenere delle delle parti con gli americani che non si capacitavano di come io non riuscissi a convincere che a un certo punto orner mi ha detto senti qui noi siamo adesso siamo alla fine di dicembre qui fra 15 giorni si spara spiegalo viene ai tuoi spiega glielo diglielo dici che qui in pace siamo tutti amici stiamo tutti bene in guerra e o si spara come gli altri o è meglio andare a casa dice perché qui che ci fai diventate un fastidio cioè molto gentilmente eravamo amici no ci conoscevamo già da prima sono riuscita a spiegare queste cose e quando tutto ben bene era vera fatto eravamo già il 26 il 24 25 di febbraio stava per finire tutto a un certo punto il ministro degli esteri russo primakov per salvare saddam che non si era ancora liberato ha proposto un piano di pace dove diceva saddam si di voi smettete di bombardare e saddam si ritira gli americani naturalmente non l'hanno accettato l'inglesi nemmeno eccetera l'italia si c'era andreotti e il sottosegretario andreotti adesso non mi ricordo come si chiamava a un certo punto dichiara otti bello questo piano primakov così possiamo smettere di sparare smettere eccetera la pace ritorna eccetera eccetera e la mattina alle 5 c'era il briefing io avevo gli equipaggi pronti con le bombe sotto eccetera e al briefing della mattina alle 5 dove eravamo tutti i comandanti dei vari di io poi facevo essendo uno dei più anziani faceva anche da vice di orne dal vice comandante lì della sala operativa o anche la conduzione oltretutto della della battagliere assieme all'inglese al francese in molte occasioni il briefing viene fuori orne dice allora questi partono questi si dice e voi italiani non partite voi non potete partire dico ma scusa fino a ieri sera partivamo non ci ha visti ieri sera non mai detto niente no dice perché ieri sera non c'era questo che mi ha dato il comunicato di questo di questo sottosegretario che approvava questo piano prima cof facendo dichiarazioni alla stampa in televisione eccetera dice questo non c'era ma con questo tu non puoi decollare madonna guarda dice io capisco cosa provi ti do 24 ore di tempo per per spiegare qui al briefing e cosa è successo e per chiarire la posizione italiana chiamo stelio nardini che era il capo di stato maggiore non è riuscito neanche a parlare con il ministro chiamo il ministro non sono riuscito a parlare con il ministro per fortuna ha chiamato cossiga così con i tanto mi chiamava era presidente repubblica e diretto guardi presidente noi stiamo qui stiamo per partire abbiamo le bombe sotto come ogni giorno eccetera cinque bombe da 2000 libri ciascun aeroplano però ci hanno bloccato perché è successo questo 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 lui si è dato un po da fare allora il ministro rognoni mi ha chiamato sollecitato eccetera l'ambasciatore c'era lì l'ambasciatore maiolini e assieme abbiamo accrocchiato una giustificazione perché poi horner e short scrivevano a bush padre il messaggio arrivava da bush padre perché il capo statunitense e comandante in capo non è solo un presidente repubblica è il comandante in capo sì a questo punto con l'aiuto dell'ambasciatore che sapeva scrivere bene abbiamo scritto tutto tutto un rendiconto per cui sì il ministro ha detto così ma noi abbiamo una doppia politica abbiamo una politica interna perché sta per cadere il governo però all'esterno manteniamo fede agli alleati eccetera eccetera sono tutta una cosa crocchiata così che io ho letto papale papale alle cinque di mattina del giorno successivo davanti a me ha telefonato a schwarzo schwarzo ha telefonato a bush e siamo stati riammessi e siamo ripartiti i venti con abbiamo saltato solo un giorno quindi abbiamo finito onorevolmente anche noi dopodiché non solo per per consolarmi penso schwarzo ha detto vabbè il giorno 3 c'era l'incontro con gli iracchini a safwan safwan era una base in irac però bombardata distrutta insomma e c'è questo incontro dice quindi ci vengo io ci viene horner e ci vengono e ci vieni anche tu non c'era nessuno le forte tu ci vieni come rappresentante delle forze aeree di tutte le forze aeree americane italiane francesi eccetera eccetera tranne che quaitiane e allora sono andato anch'io in questa delegazione e sotto questa tenda abbiamo incontrato gli iracchini erano in quattro al tavolino c'era horner e schwarzo da una parte più l'interprete e i due acchini dall'altra e abbiamo e noi eravamo seduti dietro a sentire tutto il discorso e a un certo punto abbiamo il schwarzo ha chiesto come precondizione di avere elenco dei prigionieri loro ce l'avevano e allora dice chi ha dei prigionieri qua e dico io ero solo io ce l'ho io ce l'ho due ci sono allora l'ira che non si è alzato è venuto a farmi venire a vedere i nomi di bellini di bellini e coccolone i cui tiani avrebbero voluto avere tutte le liste perché questi anni non avevano solo i piloti a una donna ma avevano anche un sacco di gente presa in ostaggio a cui i siti di quella non si è più avuto traccia di quella non sono riusciti a dare niente mentre dei militari ci hanno dato l'elenco di una quarantina di militari fra inglesi eccetera i nostri due italiani eccetera niente e abbiamo abbiamo diciamo concordato questa anno perché io stavo lo spettatore a quel punto questa cessazione del fuoco gli iracchini ci hanno chiesto di usare gli elicotteri lì è stata la fregatura che si è presso schwarzo dice noi dovremmo usare gli elicotteri non usiamo tutto tutto a terra le forze gli elicotteri le forze si ritirano però dovete permettergli usare gli elicotteri perché le strade le avete devastate tutte quindi non possiamo muoverci ritirati e lì siamo caduti nel sono caduti nella trappola perché gli elicotteri hanno tutti elicotteri armati con i quali hanno fatto strage gli isciti subito dopo andate via da lì hanno fatto strage gli isciti quindi gli isciti sono messi a odiare gli americani che hanno concesso ma così come era stata presentata la cosa era per far rientrare questo comando che era venuto lì e iniziare i ritiri dei dei vari comandanti di divisione eccetera invece erano ricotti armati che loro volevano usare per ammazzare un po di sciti proprio nella zona di nasseria nella zona e questa non ce l'hanno mai mai perdonata ed è finita così siamo ritornati abbiamo concordato la data di consegna ad amman sono andato a prendere la notte con il coccolone il giorno dopo hanno portato bellini invece a riad assieme ad altri prigionieri sono andato dentro nell'era prende e li ho portati tutti e due li ho portati col g222 a bahrain dove c'era la uss mercy una nave d'ospedale dove loro faceva una specie di brainstorming ai prigionieri davano la scossa li riattivavano il cervello dei prigionieri anche i nostri due li ho portati là però poi due dopo due giorni hanno voluto che le riportassimo in italia e li abbiamo portati in italia quindi stati bravi gli americani stati bravi anche i nostri due tutti i ricordi di vacci per un certo tempo bellini è stato mio perché ho firmato io la carta della liberazione e l'ho tenuta io non sapevo chi darla dire che tu sei mio ho firmato io per te non ti muovere e ci ricorda intanto quando ci vediamo siamo rimasti questi della guerra al golfo siamo rimasti molto uniti abbiamo una chat sono 38 piloti già dicevamo guarda un po 60 milioni italiano di 60 milioni italiano e 38 imbecilli che fanno la guerra comunque è stata una bella soddisfazione una cosa fatta bene anche se la politica non ci ha agevolato e ha rischiato di rovinare tutto finita finita la storia poi sono diventato si sotto capo capo di stato maggiore capo della difesa ma queste cose qui sono cose burocratiche non sono divertenti come queste da raccontare grazie a tutti grazie a tutti